Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Seconda puntata Ultima opera monumentale della decadente Repubblica Pisana a favore di Livorno fu la costruzione di robustissime mura che cinsero il castello. Esse partivano dalla quadratura dei Pisani, giungevano alla porta a terra, da questa a semicerchi si congiungevano alla Rocca Vecchia, da dove partivano altri due tronconi che gingevano la cala naturale. Le succitate mura, lunghe circa 2200 braccia, furono costruite con pietre quadrate di tuffo e senza terra pieno e monite negli angoli di torri simili a quelle che accompagnavano le mura pisane. Decaduta la potenza pisana, nel XV secolo il castello passò attraverso varie dominazioni, una delle quali fu quella dei Genovesi. Essi costruirono il cosiddetto porticciolo dei Genovesi a forma di ampio canale allevante della quadratura dei Pisani, terminante verso la porta a terra. Si allargava in una darsena che, pur servendo per barche di piccolo pescaggio, contribuì a incrementare i traffici, al punto che poco distante fu costruita una dogana. Il primo luglio 1421 i fiorentini acquistarono Livorno per 10.000 fiorini d'oro dai Genovesi e presero i primi provvedimenti, senza però tenere conto della situazione sanitaria del castello, che era precaria, in quanto esso si trovava al margine di una zona paludosa sopra un lido sul quale si ammassavano spesso strati di alghe putrefatte. È di questa epoca un importante piano di lavori portuali, solo parzialmente condotto a termine, che costituisce l'ultimo tentativo di rimetterli in efficienza all'approdo del porto pisano. Di questo piano faceva parte la Torre del Marzocco, mirabile opera di architettura militare, forse sul disegno di Lorenzo Ghiberti. Di marmo bianco, in forma ottagonale, con le pareti rivolte ai venti principali, si erge con un'altezza di circa 29 braccia dal pelo dell'acqua. Sotto i punti erano scolpite le quattro armi di Firenze e nelle facce ottagonali i nomi degli otto venti principali.